Ringrazio innanzitutto il dottor Federico Ottavio Reo di essere venuto da Bruxelles via Milano per questa occasione. Il dottor Reo è Junior Research Officer del Wilfried Martin Center for European Studies, molto legato al Parlamento Europeo e l'occasione di questo incontro è una bella iniziativa, cioè la pubblicazione da parte delle edizioni di Rubettino a cura appunto del dottor Reo di un saggio del 1939 di Friedrich von Hayek sulle condizioni economiche del settore dell'arimo tra stati. Oltre all'introduzione del dottor Reo c'è poi una posfazione anche di Flavio Felice, uno studioso che naturalmente al DBL si conosce molto bene. E certamente l'occasione è molto opportuna perché se questo libro fosse stato trattato nel 1939, poi pubblicato dopo la guerra, fosse uscito 5 anni fa, 10 anni fa, è stato interessante per la storia del pensiero, ma nel momento in cui invece noi oggi ci troviamo, le condizioni del progetto di comunicazione in Europa sono assai diverse, sono successe alcune cose, Brexit chiaramente è stato importante, ma anche il voto dell'altro giorno, in qualche modo si diceva prima, legato un po' a questi temi, è capitato ieri di sentire una signora che vive in Asia, che ha fatto una chiacchierata e mi diceva, sentendo appunto le notizie che arrivano da lontani, diceva, ma è vero che gli italiani hanno votato contro l'euro. E' chiaro che siamo qui in una situazione nella quale il progetto, diciamo, che si era definito nei decenni scorsi di costruzione, dentro di uno stato federale, di unificazione progressiva via federalismo e all'argomento per altri motivi. Ecco, tornare alla riflessione di un economista, tanto fare, di uno leoni, per l'influenza reciproca, che i due anni esercitato sull'altro, è importante per vedere ciò che c'è di attuale e anche probabilmente ciò che, come dire, è legato a quel tempo, o è figlio, vedremo, insomma, nella discussione, anche di qualche inevitabile difficoltà, in comprensione per chi si muove in ambito e poi deve trasferire tutte le inflessioni in attrazione, cioè contro, evidentemente, ma sarà argomento e poi per la discussione, la teoria economica e un contro è la questione politico-istruzionale. Comunque io mi fermo e ringrazio ancora appunto il nostro ospite e gli chiedo appunto di presentare questo tema, perché l'ha pubblicato, assolutamente. Grazie. Allora, innanzitutto grazie mille per l'edizione. Fatemi cominciare da qualche ringraziamento che tu, insomma, hai anche sentito, innanzitutto l'Istituto Bruna d'Ondra che ha accettato di ospitare in qualche modo questa presentazione. È la prima presentazione italiana del libro che facciamo. Abbiamo un programma di madre che è un'altra doma, forse è l'Istituto Sturzo. Sono i luoghi progressi. Lo vedremo. Il presente, ovviamente, è l'interesse di mostro della pubblicazione. Come il professor Bottieri ha detto, il saggio, ovviamente la start del saggio AIEC, il saggio centrale, il due saggio di inquadramento di volume. Abbiamo cercato di proporre da due ambulatori diversi. Il mio saggio è un saggio più di riconnessione del saggio di AIEC al processo di integrazione europea. Lui ha il titolo dell'incontro del federalismo AIEC-Integrazione Europea. Il saggio dell'interesse del professor Felice è l'Italia più filosofico-politico. Innanzitutto, perché abbiamo deciso di pubblicare e tradurre per la prima volta in italiano questo saggio? C'è un valore in sé, come quello che diceva il professor Bottieri, dal punto di vista della storia dell'Ide, pubblicare per la prima volta in italiano un saggio di un autore classico che non era mai stato pubblicato, però c'è una ragione più profonda. Il progetto è partito all'inizio del 2014, per varie ragioni, anche per i miei spostamenti insomma professionali, è stato un po' rallentato, ma mi pare che dall'inizio della crisi di quella che chiamavano la grande recessione, nel 2007-2008, e poi la crisi dell'euro, ci sono due elementi centrali del professor Felice sono ritornati, se non di Napoli almeno hanno assunto un interesse nuovo. Il primo è la teoria del ciclo economico, che molti economisti hanno ripescato per cercare di spiegare la grande recessione del 2007-2009-10, e secondo me la seconda questione è l'analisi del federalismo. Le due questioni hanno un ruolo e un peso diverso. Hayek ha dedicato, credo, 15-20 anni alla sua carriera, all'inizio della sua carriera, alle teorie in qualche modo connesse con il ciclo economico. Sul federalismo abbiamo grosso modo solo questo contributo, questo piccolo saggio del 39, ma è un saggio per molti aspetti, è una persona. Mi invito a dare come la maggior parte di quello che Hayek ha scritto. Ci sono delle intuizioni molto interessanti sul processo di integrazione europea, ovviamente anche lì perché il processo di integrazione europea si è sviluppato solo nel secondo luogo guerra, e cercherò in qualche modo di insistere soprattutto sulla rilevanza del saggio di Hayek, che poi è quella che mi interessa di più, perché come io lavoro per la fondazione politica ufficiale del Partito Popolare Europeo, siamo connessi al Parlamento Europeo attraverso il Partito Popolare Europeo, quindi è un lavoro intellettuale e politico al tempo stesso. è chiaro che quando mi sono adentrato nella traduzione l'ho fatto anche con uno scopo francamente politico. Forse diciamo in termini di struttura per darvi un'idea di quello che voglio fare, vorrei innanzitutto cercare di ricollocare il saggio all'interno della produzione che si fa, è giusto farlo, se ci sono degli accademici tra di voi, degli studiosi. Vorrei poi dire due parole sul contesto storico, perché il saggio ha visto la luce, perché è un contesto peculiare, il 1939 non è esattamente un anno che associamo con il processo di integrazione europea, quindi come mai questo saggio... O come si... O come si... Come si... Probabilità ! Tipo di... Tipo di... Tipo ai... Forza... ...forzata... 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 Quindi... ...e... E poi dirò due parole sul contenuto del saggio, e poi cercherò di spendere un po' di tempo sulla rilevanza del saggio. Come ho detto, c'è una rilevanza analitica che ci aiuta a capire secondo me, come certi aspetti del processo di integrazione europea. e c'è una risonanza programmatica cioè ci aiuta a ripensare potenzialmente il processo di integrazione europea in senso più arricchiale innanzitutto la collocazione nella produzione intellettuale di AEC convenzionalmente si tende a distinguere due fasi due grandi fasi nella vita intellettuale di AEC in grosso modo il discrimine la metà degli anni 40 in particolare questo famoso libro del 1934 e questo libro segna una transizione da temi più tecnico-economici che hanno caratterizzato la prima fase a temi più filosofico-politici la prima fase come dicevo è quella della teoria economica, quella della teoria pure del capitale quella della riflessione sui sistemi monetari internazionali eccetera e quella del dibattito del grande dibattito con Keynes all'inizio degli anni 30 la seconda è quella di tutta una serie di contributi la costituzione della libertà legge e legislazione della libertà eccetera insomma sappiamo queste cose è un saggio di transizione perché c'è tutta una fase di transizione che va da fine degli anni 30 alla metà come dicevo degli anni 40 in cui si sente che Aria si sta allontanando un po' da temi astratti di situazione tecnico-economica sta cominciando ad approcciare questioni più politiche filosofico-politiche però resta predominante il tema economico e anche questo saggio ma l'andolatura economica resta dominante le condizioni economiche del federalismo da Stati quindi questa è l'interpretazione che darei appartiene a questa fase generale di transizione nel pensiero agli chiari dal punto di vista storico anche qui è interessante come diceva qualcuno c'era un processo già di integrazione europea su base con la libertà però si riferiva a quella dell'intelletto a quella che ci vediamo quindi pare però che ci fosse c'era anche dell'altro già negli anni 20 e 30 perché si tende a rimbriare negli anni 20 già c'è stato un fermento di idee federaliste soprattutto in Europa centrale questo è molto interessante il primo movimento politico federalista è l'Unione Pan-Europea fondata nel 1903 da uno di l'uomo del Poemo che aveva il suo epicentro l'organizzazione ABN fu un'organizzazione di cui oggi esiste ancora tra l'altro se non forno un po' questo la sbaglia ma fu un'organizzazione molto influente presso Priam per esempio presso Stressum eccetera è interessante secondo me molto interessante che fosse localizzata nell'Europa centrale questa era un'area per esempio era un'area che per sé era stata organizzata come una sorta di federazione sovranazionale era un'area in cui all'improvviso doveva dell'area mondiale erano sorte decine di politiche economiche prima sconosciute questo fermento intellettuale esisteva negli anni 30 ovviamente negli anni 30 noi li associamo con l'ascesa dei totalitarismi nazifascisti senza dubbio questo fenomeno fu preponderato perché mi avevo dubbio al tempo stesso però il dibattito federalista continuò e continuò anche in modo predominante cioè in particolare ci sono due testi che vorrei qui citare che hanno un impatto quasi diretto sul testo di Ariane uno è il famoso testo di Lionel Robbins altro grande economista sulle cause economiche della guerra Lionel Robbins riflette un po' sul declino del liberalismo classico dell'etatologo del liberalismo ottocentesco e l'individuo è il problema principale nel nazionalismo politico quindi la sovranità assoluta degli Stati che in qualche modo alimenta il nazionalismo politico e quindi il protezionismo economico e quindi la creazione di blocchi economico positivo e la soluzione di Lionel Robbins è l'Unione Europea in prospettiva mondiale che siamo arrivati anni 30 l'altro contributo che oggi è dimenticato perché dal punto di vista intellettuale era abbastanza debole ma che ebbe una certa risonanza politica fu un libro di un giornalista americano Clarence Strauss che è direttamente citato a un messaggio di Ario che si chiamava Yulman ed era un libro interessante perché propone una federazione non europea perché ovviamente parte dell'Europa era sotto controllo nazifascista una federazione delle repubbliche democratiche occidentali quindi economia britannica gli Stati Uniti d'America e la parte ancora libera da l'interdure dell'Europa e questo è il progetto politico che insomma alimentò il libro del 38 ed è il progetto a cui Ario sta immediatamente reagendo questo è un po' il contesto storico in cui prende piede c'è una riflessione che come opporsi alla scesa delle potenze totalitarie diciamo economico politica soprattutto nel mondo lo sassone perché il mondo dell'Europa centrale è caduta insomma nelle griche del totalitarismo e questo è il contesto in cui si sviluppa il contenuto agliicchiato da per scontata sia l'analisi di Laio di la Brotin sulle case di una guerra sia questa proposta di calaccia strata e quindi con questo con questi elementi di contesto mi è abbordare brevemente il contenuto del saggio il contenuto del saggio è ben espresso per il battito le condizioni economiche del federale di memoria statica questo è che si interroga su quali siano le condizioni economiche perché una federazione tra stati i sovrani precedentemente i sovrani sia sostenibile e credo che identifichi due grosse questioni il primo contributo di Aie che è scritto nell'aver capito che una unione economica dice lui sia necessaria per la sostenibilità dell'unione politica federale ed è importante precisare che cosa ha che intende per l'unione economica perché è un po' diverso da quello che intendiamo noi nel dibattito europeo oggi l'unione economica oggi nel dibattito europeo l'unione economica c'è un governo economico che deciderebbe per esempio degli standard di mercato del loro lavoro che cercherebbe di armonizzare i sociali invece Aie utilizza il termine unione economica e ritiene che questa unione economica sia necessaria all'unione politica nel senso di integrazione negativa cioè nel senso di libertà di mercato Aie non lo dice ma insomma definisce queste elenca le libertà che ha in mente e sono veramente le quattro libertà del mercato è possibile tradurlo in questa nota la libertà quindi di movimento dei beni dei servizi dei lavoratori e dei capitati questa è la concezione anche chiama di unione economica non è lì perché con l'unione economica in qualche modo interventistica oggi e perché Aie che ritiene che questa unione economica sia necessaria alla unione politica come la maggior parte dei liberali classici che la presenza di misure artificiali restrittive dell'intercommercio tende a segmentare i popoli che sono soggetti a queste misure tende a artificialmente questo è un centrale del pensiero liberale sin dal XVIII secolo l'idea che queste restrizioni artificiali tendono a mettere i popoli gli uniti contro gli altri tendono a creare delle barriere artificiali e quindi Aie che ritiene all'interno di una federazione sovranazionale in cui non esistono non siano preservate queste quattro libertà nel lungo termine di un'interazione economica che inevitabilmente unirà le fondamenta politiche anche della federazione ecco perché una unione politica ha bisogno di una garanzia forte delle quattro libertà c'è un passaggio in cui Aie dice che dovrà per questo scopo avere poteri di intervento poteri militanti negli interventi economici a livello nazionale questo è il primo passaggio per il primo contributo di Aie che l'avere lucidato in che senso una unione economica sarebbe questi quattro libertà se si guarda adesso il dibattito un po' in Inghilterra dove c'è un po' che francola nel giro sui poter per fare però molti in Inghilterra mettono in dubbio la necessità della libertà di circolazione dell'elaborazione ecco Hayek invece diciamo sviscera questo aspetto da una motivazione credo l'argomento anche chiaro ma è l'argomento classico a favore del libero movimento dei lavoratori il lavoro è uno dei fattori della produzione quindi vale per il lavoro l'argomento economico liberale classico che vale per tutti gli altri fattori della produzione la libera circolazione del lavoro permette una migliore allocazione del fattore lavoro a livello internazionale in Inghilterra il dibattito è sottile e soprattutto la libertà di movimento delle persone che sotto attacca e sai che questo c'è una sottile differenza se lei legge i trattati di Roma si parla della libertà di movimento dei lavoratori e poi negli anni anche con vari trattati e vari sentenze si è ampliato e poi la corte di giustizia in particolare dirò qualcosa a questo riguardo dopo la riferbia giudiziaria che poi questa libertà è stata estesa ed è stata elevata al ramo di una sorta di principio costituzionale che si estende al di là della natura di prestatori di lavoro ma insomma non è necessariamente scandaloso in una federazione che ha anche un scopo politico AIEC ovviamente non entra all'interno di questa distinzione che per noi invece è importante ma credo che è importante tenere in mente che esiste una distinzione anche nel dibattito europeo tra le due alcune delle soluzioni per tenere il Regno Unito all'interno in qualche modo del processo di integrazione europea considerano la possibilità di restringere almeno per il Regno Unito la libertà di movimento delle persone nel movimento degli lavoratori forse mi parla anche di welfare moderato potesse quello rispetto oggi ci poniamo in termini totalmente diversi non c'è un problema del shopping è la favore di una politica dell'immigrazione completamente aperta a condizioni che si evolisse il welfare state quindi dicevamo il primo elemento è l'importanza dell'economia economica il secondo contributo di Ari è che l'aver capito che questa unione economica così come lui l'ha definito quindi la protezione delle quattro libertà del mercato unico avrebbe avuto delle conseguenze importanti sulla capacità dei governi nazionali porre in essere certe politiche economiche interventistiche e qui credo che per noi questo meccanismo è familiare il meccanismo che Ari ha compreso è quello del monopolio regolatorio all'interno di una federazione solanazionale da parte dei governi nazionali e le quattro libertà sono garantite sono un elemento costituzionale imprescindibile della federazione e questo significa che i paesi ad alta tassazione all'interno della federazione dovranno confrontarsi con beni servizi prodotti da paesi a bassa tassazione non possono escludere questi beni servizi e di conseguenza questo significa che ci saranno delle pressioni per evitare la tassazione troppo elevata perché i beni servizi prodotti da paesi ad alta tassazione sarebbero esposti ad una pressione competitiva altro elemento è una regolamentazione senza logica si troverebbero in una competizione di tendenza di base federale di beni servizi prodotti da paesi a bassa regolamentazione e quindi Hayek riteneva che molte forme di interventismo economico negli anni 30 e diffuse per la verità anche nel dopoguerra ancora oggi sarebbero divenute impossibili per via di questo meccanismo competitivo rappresentato dalle quattro libertà e della calumnia molto brevemente il secondo aspetto che Hayek considera è anche lì Hayek ha delle cose interessanti questo non è il tema del saggio ma è uno degli elementi principali della riflessione di Hayek e lì Hayek ha una frase molto interessante di una moneta unica federale un'unità notaria che era il discopato spiegherò dopo perché funzionerebbe come un rigido constat e questo è interessante perché è esattamente come l'euro ha funzionato nei primi anni della crisi economica finanziaria dove c'è unione economica per sostenere l'unione politica e ritiene che le quattro libertà restringeranno in modo significativo le capacità di intervento dei governi federati degli stadi federati uno potrebbe chiedersi e che cosa perché non immaginare che lo stato federale allora reintroduca a livello federale questi elementi di interventismo economico che non saranno più possibili a livello degli stadi federati e qui Hayek ha una notazione molto interessante Hayek dice in una vasta federazione dalle lingue tradizioni culture economiche differenti è estremamente difficile pensare che si possano essere d'accordo su interventi economici specifici perché in questa federazione se si vuole proteggere l'industria di un certo paese in un altro paese ci sarà un'industria che sarebbe diciamo influenzata in modo negativo da questi sviluppi perché non c'è questa omogeneità mantenuta dal nazionismo nazionale e quindi sarà molto difficile di mettersi d'accordo anche sulle più semplici misure interventiste quindi a livello degli stati federati non si potrà intervenire per via delle quattro libertà a livello dello stato federale sarà più complicato perché in una vasta federazione è difficile mettersi d'accordo a meno che i variari si prendano sopraverso sulle altre nuove nel saggio il saggio introduttivo io certo mi chiedo a darmi su come mai in effetti questo aspetto dell'Unione Europea sia un po' non in linea con le previsioni dell'Unione Europea ha mostrato grandi capacità delle regolamentazioni quindi è interessante chiedersi perché magari se c'è interesse dopo su questo ma diciamo questa è un po' l'analisi a Yekiana l'ultimo punto che volevo sviluppare poi insomma possiamo un po' aprire la discussione è la rilevanza del saggio per l'integrazione europea come dicevo il saggio ha una doppia rilevanza secondo me ha una rilevanza cioè queste intuizioni a Yekiana ci aiutano a comprendere certi aspetti del processo di integrazione europea così come si è sviluppo sull'Utano a partire dagli anni e poi ha una rilevanza programmatica cioè ci ci dà un modello di federalismo a Yekiano che è molto diverso dal federalismo spinelliano è un federalismo molto più decentralizzato molto più competitivo molto meno invasivo molto e quindi molto più interessante nel contesto politico attuale secondo me prima innanzitutto la rilevanza analitica la rilevanza analitica secondo me è interessante perché ci aiuta a capire certi sviluppi a partire dal 1979 per lungo tempo nel primo decennio dell'impresa europea il mercato unico esisteva solo sulla carta perché esisteva solo sulla carta perché l'idea dei governi era che ci si dovesse mettere d'accordo prima di aprire la concorrenza continentale ci si dovesse mettere d'accordo su un regime su standard europei e rimpiazzassero i vari standard nazionali solo allora in presenza di questo accordo ci potesse avere il libero movimento dei beni il risultato il risultato in parte per la ragione ma le merci si è arrivati abbastanza presto su servizi su capitali sulle merci in termini di unione loganale si si dice al 68 loganale si ma standard gli standard sono stati però a me pare insomma che l'elemento ehm c'era difficile di mettersi d'accordo quello perché c'erano differenze come hai che l'ho già visto non c'era ehm gli stadi erano troppo diversi soprattutto dopo i primi allargamenti perché si si mettesse d'accordo su standard in comune secondo me in questo insomma c'è una una ricca letteratura un professore tedesco non libertario ma molto intelligente su questi temi Fritz Schatz un professore adesso di pensione che ha scritto molto sul tema e ehm fu la Corte di Giustizia Europea in larga misura a rompere il monopolio dei governi con una famosa sentenza esattamente nel 1979 questa famosa sentenza Cassi de Dijon che viene un po' dimenticata secondo me nelle discussioni un po' liberali libertate dell'Unione Europea sono sempre molto critica questa è questa è una sentenza inconsapevolmente anche chiara se direi perché è una sentenza che prevede in soldoni anzi beni allora la sentenza riguarda solo i beni invece beni legalmente prodotti e commercializzati in uno Stato membro debbano essere accettati in altri Stati Uniti a meno che gli altri Stati Uniti non possano diciamo invocare certe eccezioni in materia di sanità prevista dai trattati è comunque la Corte che si riserva la facoltà di decidere e quindi all'improvviso una degli filastri del federalismo al vecchiano così come Alec l'aveva dipinto del 1939 si palese si palese esattamente e Fritz Scharf fa un'analisi in Italia di come questo tipo di sviluppo che poi dai beni ben esteso dalla Corte anche ai servizi in parte ai capitali in modo più limitato abbia cominciato ad esercitare delle pressioni importanti sul governo nazionale nel senso esattamente previstolare quindi nel senso della vera economizzazione nel senso della perdita di molti monopoli fa un esempio molto interessante quello del monopolio del tabacco non li abbiamo contituati ma quello del tabacco che è largamente svuotato da ormai proprio da questo processo competitivo e anche tra questi esempi del 1939 esattamente ciò che è successo l'altro secondo me interesse analitico è l'unione monetaria come dice perché nella fase diciamo in cui si dice tardi a acquistare il vendito pubblico quindi si atteneva all'impalcatura di maschi effettivamente l'euro per molti versi ha funzionato come un rischio costante cioè ha fornito un vincolo di bilancio invalcabile e ha costretto i paesi ad aggiustare i loro bilanci e le loro economie per via reale non per via monetaria e quindi sono tutte le riforme che abbiamo visto nel senso delle liberalizzazioni il pareggio di bilancio la riduzione del debito pubblico eccetera le cose sono un po' cambiate quando la politica monetaria della banca è cambiata quindi potremmo discutere a lungo ovviamente in Italia questo è stato uno sviluppo benedetto da un punto di vista liberale sono sicuro che sia stato così positivo io volevo insomma un po' toccare che questa idea di un federalismo agliecchiano come possibile alternativa al federalismo spinelliano se voi non so tutti voi che si denuiscono federalisti europei io sono sempre stato io stesso mi considero federalista europeo ma ho sempre avuto l'impressione che molto spesso il federalismo europeo siccome è praticato e concepito nelle istituzioni europee trasponga in qualche modo trasferisca al livello europeo i canoni dello Stato nazionale ottocentesco per certi aspetti e ovviamente lo Stato nazionale ottocentesco con tutta la sua dimensione in qualche modo centralistica interventistica dal punto di vista economico e questo è secondo me il federalismo studenteano ha molto di questo quindi non chiamiamolo federalismo si io ho scritto uno dei miei insaggi in agenti è debbighiare il bom quello che è quello che è il significato del federalismo europeo poi dico che forse ci siamo sbagliati perché il federalismo è un problema di centralizzazione competizione e non è solo un fatto semantico no non è un fatto semantico secondo me è un fatto di logica di integrazione e lo dico brevissimamente la centralizzazione di poche chiaramente definite politiche pubbliche che sono di solito la difesa la politica estera le quattro libertà se sono d'accordo gli enti territoriali perché la sovranità è buona e la completa decentralizzazione competitiva di tutto il resto questo è la via l'integrazione europea ha una logica molto diversa l'integrazione europea procede attraverso la condivisione di sovranità sempre maggiore di politiche pubbliche quindi il federalismo centralizza poco e decentralizza tutto il resto l'integrazione europea ha una struttura quasi collusiva per certi aspetti nel senso che è la messa in comune di un numero sempre maggiore di politiche pubbliche ora ci sono delle ragioni storiche profonde per cui non si poteva fare di orzamento per il detto sia il progetto di integrazione europea non scambiare l'imperazione europea insomma un paladino un forte paladino del progetto di integrazione europea la ragione per intenderci è che l'idea di una federalizzazione fa l'initi da 15 pata 4 quando il Parlamento Francese bocciò l'idea di una comunità europea di difesa quella era l'embrione di un'Europa liberata basata sulla difesa divisione di un numero sempre maggiore e quindi poi si inventò questo sistema neofunzionalistico di condivisione della sovranità era l'unico probabilmente sistema di integrazione allora possibile ma forse è venuto il momento di riconoscere è il proceduto per i fatti pubblici si esattamente insomma non c'è un mettendo no mettendo mettendo i governi e le opinioni pubbliche davanti che l'unico degli anni 80 era un fatto un fatto pubblico che anticipava insomma anche se poi quindi non era un grande intellettuale non ha scritto niente di quel tipo è interessante ho un saggio in uscita sempre in un libro curato da professor Faradio Felicia sui 60 anni al trattato di Maastricht in cui considero i quattro federalismi classico e cioè distingo il federalismo diciamo ne è il federalismo di Attiero Spinelli il federalismo del cristiano democratico se vogliamo di Adenau e di Ratti e il federalismo di Ratti di Adenau eccetera e la mia conclusione è che il federalismo spinelliano e il federalismo monetista sono due diciamo appartengono al genius del federalismo centralizzato gli altri due federalismi tendono invece a favorire un federalismo invece un cristiano un po' revisionistica ma secondo me è interessante considerare queste differenze ci sono delle differenze sottili tra il federalismo e i vari padri fondatori che ovviamente insomma si possono ricondurre le loro differenze ideologiche un cristiano un cristiano conservatore aveva probabilmente una visione diversa dall'Europa rispetto ad un socialista insomma come sia Gioro Spinetti quindi non è non ha intenti insomma iconoclasti questo esercizio siamo paesi guarda quasi quasi mi fermeremo giusto per dare un'idea di come questo federalismo amicchiano potrebbe apparire voglio leggere la descrizione che ne faccio in un passo perché è la cosa più semplice se riesco a trovare nazionale e il cosiddetto federalismo competitivo in cui i compiti precipi se non esclusivi del governo centrale sono la politica estera di difesa una politica monetaria vincolata a garantire la stabilità dei prezzi nel lungo periodo e la difesa rigorosissima delle quattro libertà che costituiscono il fondamento di una vera monologica tutte le armonizioni sono necessariamente demandate a livello del governo di fede siano essi nazionali o regionali e la più rigida sossidualità e elevata al raro del principio di un'unità la concorrenza amministrativa tra le molteplici giurisdizioni esistenti all'interno della federazione non è temuta e ostacolata con continui tentativi di armonizzazione ma costantemente incoraggiata le istituzioni sovranazionali che vigilano per assicurare la più completa libertà di movimento ai cittadini e ai fattori positivi potrei continuare perché c'è un passaggio in questa federazione liberale sarebbe possibile decentralizzare a livello regionale molti poteri attribuiti a livello nazionale l'ultima cosa sicuramente l'ultima cosa che vorrei dire è il modo in cui secondo me Hayek aveva capito un elemento fondamentale per la sostenibilità politica di una grande federazione che invece secondo me era sfuggito a spineli vediamo se vi riesco a trovare il passo perché è molto interessante il prezzo che dobbiamo pagare per un governo democratico internazionale è la restrizione del potere e dell'ambito di intervento del governo cioè Hayek aveva capito che in una grande federazione dalle diverse tradizioni dalle diverse tradizioni culturali eccetera dalle diverse preferenze economiche un governo federale può essere stabile e legittimo soltanto se se non interferisce troppo se non cerca di dettagliare di regolamentare in dettaglio la vita economica e non se invece si cerca di armonizzare di imporre un modello unico a tutti questi popoli di legge ultima agitazione poi insomma abbiamo la discussione vediamo se riesco a trovarla è sulla stessa insomma falsarica no non riesco a trovarla ma insomma vedete che credo di essere riuscito spero a dare il senso insomma di questo federalismo di eccare secondo me c'è un po' di lavoro da parte l'integrazione europea è un processo splendido ci ha dato certamente ma secondo me in un contesto attuale in un contesto di sveglia dell'età di 10 euro a 16 euro per cente l'unico federalismo di un povero di eccare federalismo di eccare digitalizzare di eccare delle economie nazionali locali di questi dei messaggi anticipati di contrarre la stessa italiana grazie posso chiedere nel prezzo ho fatto un accento al potere ineditorio che il governo centrale diciamo così avrebbe come come si attuava questo potere ineditorio il salgio è abbastanza rilevato parliamo di nonostante che ha 13 pagine nella regione originale è interessante nonostante è interessante perché in 13 pagine si è riuscita a condensare tanti spunti di riflessione però credo che avresti in mente qualcosa di molto simile alla proibizione al divieto di un Stato che esiste tra le comunità della Commissione la logica qui è una volta che si accetta che la condizione della sostenibilità dell'unione politica e l'unione economica quindi il rispetto delle quattro libertà è necessario che il governo federale abbia potente quindi di torno quindi che impedisca iniziative dei governi federati che possono frammentare la comunità economica della federazione e preparare la disintegrazione politica o dura della federazione quindi era una concorrenza legale esattamente noi diremmo così e poi c'è un passo in cui dice adesso non riesco a trovarlo ma è immediato ma insomma c'è un passo in cui in grosso modo dice che il governo federale dovrebbe avere poteri inibitori delle facoltà di intervento dei governi federati pur probabilmente non potendo avere poteri di intervento proprio per l'altro che dicevo perché sarebbero probabilmente interventi molto divisivi molto lageranti dell'unità economica della legittimità la libertà della legittimità scusate non dico che ha detto quali libertà cioè impedisce la secessione non c'è risultato no 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 non impedisce la secessione questo sarebbe un lungo tema negli studi federali è un tema importante no no ma non ho nulla a chiedere con la secessione impedisce atti di intervento economico politiche di intervento economico a livello nazionale che falsano la concorrenza segmentano il mercato unico questa è la logica cioè se uno stato dà dell'assolvenzione alla porta dell'industria automobilistica all'interno di un mercato unico automaticamente danneggia le altre industrie automobilistiche che non vado di questa solvenzione e alla fine vince lo stato che ha un potere economico perché può spazionare le sue industrie a scambito degli altri stati lo stato che spazionare le sue industrie lo puoi oppure bene non è detto perché se uno ha è uno stato di 80 milioni di persone è una grossa intensità di 60 santo vediamo lo stato più potente oggi una volta uno stato di 80 milioni di persone che ha una grossa di gusto automobilistica la sovvenzione però pesantemente può far scomparire di gusto automobilistica di uno stato che ne ha 5 e che è spazzato via questo lo dice secondo me contro la sovvenzione la sovvenzione nasce volta prima poi questo non è posso dire solo una cosa su questo tema della sedizione non era il tema ma è un tema molto interessante per gli studi federalisti io sono convinto che un diritto di sedizione faccia parte di una costituzione federale che funziona non deve necessariamente essere esplicito può anche essere implicito era implicito per esempio nella costituzione della americana fino alla guerra finale degli anni sessari quando l'opzione della sedizione implicito ma non dichiarato no non dichiarato ma implicito era l'assunto costituzionale sulla base che alimentava insomma le rivendicazioni della confederazione e oggi nel campo stessa cosa noi che vengono nell'istante stesso in cui il diritto di sedizione viene mosso questo è uno degli elementi di centralizzazione più importanti all'interno delle federazioni perché quando non c'è più quella minaccia le spinte centralizzate ci sono molto più forti questa secondo me è una delle ragioni in cui il Canada è molto più decentralizzato dagli Stati Uniti perché c'è un pericolo reale di sedizione la domanda anche a te ed è la ragione per cui abbiamo assistito ad un processo lento ma inesorabile di centro di infersione dopo la guerra filantica questo è un punto importante anche in Svizzera esattamente lo si osserva dappertutto il diritto di sedizione è un elemento almeno complicito secondo me è un elemento importante e è bene che il trattato di Lisbona secondo me l'abbia riconosciuto ma cercana da subito è stato un accordo costituzionale che ha fatto votare due volte ho votato quindi poi c'era quando c'era il titolo che ce l'abbiamo utilizzato si prende domande grazie per l'intervento la prima che riguarda il nostro della competition law che secondo me è in qualche modo scritta la tesi di Aiex che io sono cose condivido e cioè concorrenza con potere esclusivo è riuscito in qualche modo a mantenere questo forte libertà combattendo anzitutto quando gli stati i stati amici ma guarda i processi della storia i monopoli che è un cartello che abbiamo compagnuto e contro ultimamente il multinazionale dunque il consumatore non è più libero di scegliere i pezzi competitivi cioè per la competitività di cui parlate è stata mantenuta grazie ma la competition law insieme a una secto specific regulation cioè insieme come si combinano che garantisce questa libertà in modo molto intervettista questo come lei inquadra la sua la seconda domanda è quella la sua alternativa rispetto a quella 3D forse ha citato democracy defense su cui comunque sono fondate non è più grande di cui è successo della storia a partire dai UK fino agli istituti cioè anche in Germania cioè lei qual è l'alternativa alle 3D quindi democrazia difesa e dedito comune che sono stella base che oggi sono un debito comune e poi le lancette diciamo defense democracy death cioè non lo ho mai spero se non guarda una arte che è risultato che ci sono questo un po' quello che ci sono le 3D ci sono fondate queste generazioni in vero su dei ritori su ritori il nome sdl e il cienzo per gli indiosi e ciò che non è che se non è non so non è che non è che non so come la mia città non so come io non so so che con il fatto di farlo di un po' la riforma lei si riferisce alle origini degli stati uniti quando effettivamente una parte del debito degli stati federati ben neutralizzati. Ovviamente è un tema enorme e complesso, non sono sempre da dire quello che mi pare opportuno. Innanzitutto sul diritto della concorrenza, la competition law è molto interdentista e sono interamente d'accordo. Non credo che Hayek sa. Hayek, la competition law della Comunità Economica Europea e poi dell'Unione Europea è stata forgiata da una scuola di pensiero, lei sa, quella ordo liberale, con la scuola austriaca e con la variante, diciamo, la scuola austriaca, ma non è identica. Molta di questa gente era stata studiata con Isis a Vienna, o alcuni almeno avevano studiato con Isis a Vienna, ma non c'era in particolare sulla concorrenza. Questo è uno dei temi più, se vuole, divisibili, anche tra libertà. Anche all'interno, molti austriaci non sono andato d'accordo gli uni con gli altri sul tema. Quindi credo che lì l'influenza predominante sia stata quella ordo liberale che effettivamente a favore di una politica della concorrenza molto robusta e che, invece, insomma, una prospettiva più hayekiana o più, diciamo, più austriaca sarebbe quella di dire l'unico elemento necessario è la libertà di ingresso, cioè la libertà di accesso all'interno del mercato. In quel senso non c'è bisogno di una politica. Ci sono due modelli diversi. ci sono, secondo me, delle argomentazioni a favore di l'uno o dell'altro. Io tendo ad essere più austriaco su questi temi. Non sono, insomma, i presenti. Ci sono degli argomenti, secondo me, a favore di entrambe le posizioni, ma io tendo la mia sensibilità più austriaca. Però credo che sia questo. Hayek aveva soprattutto in mente, secondo me, una concorrenza molto limitata in materia di diritto di aiuti stati. Credo che tutti saremo qui d'accordo su questo tema. Comunque, qualcuno deve regolamentare questa cosa, ci fa regolamentare. C'è chi ha un accordo di giustizia e qualcuno che deve può, quel po' che vuole che vuole intervenire, perché sennò come si è... Se no, non è possibile un mercato... Cioè, se non ci sono delle argomenti di concorrenza definite a livello centrale, non può esserci una... Adesso stiamo andando oltre Hayek, ma a me pare che, insomma, se... Adesso... Questo non è politicamente concepibile, lo dico chiaramente, ma se ci fosse un principio costituzionale che garantisse il riconoscimento principico di tutti gli standard e vietasse gli aiuti di Stato, perché questo dovrebbe essere possibile? Vedete la matita? Ha una mina che sarà di una certa durezza. Questa durezza è stata classificata secondo le tipologie, e permette effettivamente che venga venduta in un mercato di 500 milioni di persone, vedo di una certa qualità. Lo stesso vale per questo pollo di carta. È A4, tutti vendono del pollo di A4 e quindi, non so, hanno queste dimensioni, entrano le fotocopiatrici, eccetera. Questa spina va qui perché c'è uno standard, è conosciuto da tutti, e se non ci fosse uno standard e ogni regione, ogni Stato potesse fare la sua regolamentazione, a me si immagina. Quindi, per il funzionamento di un mercato unico ci vuole un potere forte di regolamentazione e i viti che sono stati creati in gran parte da signor Boris Johnson, che faceva il corrispondente del telepegraf a Bruxelles, mandosi notizie sensazionalistiche, cioè che l'Unione Europea passava di gran parte del suo tempo a decidere le dimensioni, non so, delle banane. In realtà, derivano dalla necessità di tutte le industrie commercianti di avere degli standard comuni per qualsiasi prodotto. Cioè, le zucchine o le banane sono i frutti vendoli, i distributori e i commercianti di zucchine e le banane che sono in qualche modo catalogate i standard definiti e accettati da tutti perché in quel modo si possono vendere, commerciare e trasportare nel modo più semplice. Quindi, sì, esatto, ma appunto, tutti i standard tecnologici, eccetera, hanno la stessa logica, cioè marchono da un'esigenza del commercio. A me, sinceramente, vedi un aspetto. A mio parere, ci dimentica una cosa, perché c'è un grande conflitto all'interno della scuola liberale. Ci dimentica, a mio parere, che la più grande liberalizzazione della storia, probabilmente, si deve a una battaglia con tutti in Inghilterra, da un movimento popolare, che è l'Anti-Corner League, che si risolve poi con un'apertura unilaterale da parte dell'Inghilterra. Cioè, il Parlamento inglese dice, venite per i vostri prodotti. Cioè, il mercato non è qualcosa che viene costruito attraverso un meccanismo di regolamentazione, ma si dice semplicemente, noi non poniamo barriere di fronte a cose prodotte fuori da qua. In quel caso specifico, ovviamente, nell'Inghilterra della prima del 1800 si parlava di cereali, era quella grande battaglia. Cosa voglio dire? Intendo dire che questo vale anche per l'idea di una costruzione di mercato comune. L'idea che una parte dei liberali, molto poco su questo tempo. C'è uno scritto di Hayek, uno scritto di Lundi, eccetera. In audio ha scritto un po' di più, ma era, diciamo, cosa che si chiamava la mano sinistra, non era al centro dello studio e così via. Avevano questa idea che costruisci top-down, in qualche modo. Perché Hayek, come dire, una regolamentazione. Il secondo Hayek, se fosse tornato sul tema, perché quello è l'Hayek appunto, si chiama via per la servitù, costruisci non liberty, dove esalta il Reichstag, esalta un'attività di legislazione, eccetera. L'ultimo Hayek è quello di law legislation and liberty. Cioè l'idea che la libertà è un processo, appunto un meccanismo evolutivo. Avrebbe spostato questa idea di una costruzione appunto dall'alto verso il basso, avrebbe detto, ma io scommetto sul fatto che se lasciamo i vari paesi, liberi fra di loro, è probabile che la gente non produca 32 mila modi diversi, o che produca forme stranissime di pagine, mentre in cui la Xerox o altre compagnie hanno accertato. Cioè se noi lasciamo, come dire, così come non c'è il tema della Prusca e dell'atme francese, non c'è qualcuno che regola il nostro linguaggio. Il classico esempio è di Leoni. Ma il linguaggio è un sistema di regole che evolve spontaneamente. Quando noi ci capiamo più o meno con qualche errore, non c'è il sintassi, il lessico, eccetera, l'idea aiechiana forte è quella del secondo aiechiano. Cioè di un processo che dal basso, in condizioni di libertà, fa sì che il nostro interesse, interesse anche degli altri, quindi laddove vogliamo, perché possiamo anche poter dire, no a me una cosa così piccola non va bene, voglio un più grande, la quattro non mi va bene perché per una serie di ragioni voglio avere una quattro e mezza, eccetera. Cioè l'idea del secondo aiechiano è che rispettando le libertà, lavorare gli interessi, gli incontri, eccetera, probabilmente sia quel giusto equilibrio tra l'armonizzazione e la non armonizzazione, perché una società libera è una società anche non armonizzata, senza considerare che aiuti di Stato, ad esempio, dei consumatori, eh. Sono politiche sbagliate e distributive a favore spesso di consumatori stranieri. Se qualcuno volesse venire, voglio dire, finanzia un'azienda francese, è successo, che viene a vendere l'energia in Italia e la fa a basso costo per distruggire i produttori italiani, dai italiani, non voglio dire, è un problema di francese, se voglio continuare a vendere l'energia a basso costo, lo faccio. Probabilmente, come si diceva, c'è un meccanismo provolutivo e poi il Stato fallisce o comunque andrà in conto delle conseguenze e probabilmente le cose andranno meglio. In Svizzera, per farci appunto un peso non allontano da noi. Ha avuto un grande sospetto di fronte all'idea regoliamo dall'alto. Ha sempre giocato di più sul fatto, facciamo emergenza dal basso, responsabilizziamo i vari attori ed è probabile che ci si indirizzi verso... ... 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 Quindi probabilmente era inevitabile, come ho detto anche il neofunzionalismo probabilmente era inevitabile. Ci ha dato delle strutture, ci ha dato dei problemi che adesso dobbiamo risolvere, ma in quel contesto storico non si potesse fare. La letteratura identifica, scienza politica parla di output and input legitimacy, non è quello che lei diceva, output legitimacy, c'è questa legittimità che si acquisisce attraverso i risultati, per esempio risultati economici, benefici concreti, input legitimacy aprilò il processo democratico, per esempio, o gli elementi identitari. Effettivamente quello che lei dice è vero, l'Unione Europea è stata sempre debole di contenuti identitari, questo è uno dei limiti, secondo me, dagli anni 70 c'è una concezione più progressista dell'europeismo che ha preso piede e tutti i contenuti identitari, la riflessione culturale sui fondamenti dell'Unione Europea, che erano proprio dei primi padri fondatori, soprattutto dei moncristiani, è stata persa. Ovviamente questo non è patrimonio comune, non possiamo negarci, non è più patrimonio comune, non possiamo difenderlo su basi religiosi, ideologiche, no, assolutamente no, possiamo difenderlo su basi culturali, come un'eredità storica, su cui riflettere e su cui continuare a rinterrogarsi, insieme alle altre tradizioni che le ricordavano, l'unismo, eccetera, ma il problema identitario resta, non so, francamente non so se ci sia una soluzione. In parte forse non è un processo, diciamo, deterministico, no? Gli intellettuali hanno un ruolo da giocare, diciamo, produrre costrutti che aiutano la gente a ridentificarsi con l'Europa, ma in parte è quello che stiamo cercando di fare noi a Bruxelles, ma ovviamente è un processo che persino per gli Stati Nazionali... ...che c'è anche un problema di fondo che è banale, ma... ...fare un ordine politico continentale in assenza di una condizione che, nei precedenti esempi di costruzione della politica era fondamentale, c'è un'ordine pubblica. Non c'è un'ordine pubblica europea. Non c'è dei luoghi in cui... non c'è nemmeno dei media europei. Ognuno, come dire, viva all'interno di contesti, se c'è un'ordine pubblica. Cioè, ha un'ordine pubblica europea, non vi ricordate, un'ordine pubblica. E quindi, vuol dire, fu davvero fatalmente una confusione tecnocratica, perché manca un dibattito comune, siamo segmentati, siamo molte cose. Secondo me si dovrebbe, progressivamente, diciamo, muovere verso una situazione del portogliano europeo in vista come un arbitro, come un protettore delle diversità, come una impalcatura continentale per mantenere l'apertura, per difendere certe libertà continentali. immagino l'Unione Europea come uno Stato in fiera, come uno Stato nazionale in fiera, come la costruzione dello Stato nazionale europeo, questo è un posto di merito, perché secondo me hanno completamente... hanno mal compreso la situazione politica europea, così come oggi, così come era, con la limitata che viene su quanti. Io direi che se non ci sono altre... L'ultimissima. Prego. No, voglio sempre, 13 pagine di volare. C'è una o due righe che parlano di chi è la sovranità, che ne prima parlava del governo centrale. Se la sovranità è degli enti territoriali, lo Stato centrale, il governo centrale è la sovranità, zero. Svolge i compiti che gli vengono delegati, e che possono anche essere tolti a queste idee. Ovviamente, il mio referimento è al particolo 3 cosiddetto da Swiss, ma la sua proprietà è dei cantoni, perché il mio intero è dei compiti è costantissimo. Siamo, sono mondesi, credo che quanto più si è legalizzata, resta meglio è, però sono va detto che molte generazioni, infatti, non riempi, è andata all'istante nazionale, è stata l'istante, è stata l'istante, è stata lì, anche la alpizza, la spesa è ancora resta più vicina. ma io sono solo te non c'è la funzione della conale che parla della sanitaria non c'è la funzione secondo me in questo saggio conale che è ancora una concezione i modelli sono esternati e quindi è una federazione abbastanza abbastanza centralizzata almeno dal punto di vista istituzionale non dal punto di vista dell'interventismo a te non fa mai riferimento alla Svizzera sì, fa riferimento alla Svizzera in un passo se ricordo bene solo in un passo in cui lamenta la disintegrazione economica dell'area federazione che c'è dalla Svizzera e degli Stati Uniti proprio il fenomeno che dicevo cioè quando gli Stati hanno poteri di intervento e di regolamentazione economica l'unità economica della federazione comincia a disintegrarsi perché ci sono... ma che esempio un po' mi ricordo, posso mostrarglielo che la Svizzera ma non è un esempio in cui entra nel dettaglio fa riferimento all'altra pubblicazione grazie 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 grazie